beh ragazzi siamo qui con un nuovo vlog in questo vlog volevo dirti si volevo dirti volevo dirvi che con Aoni ho chiuso anche se nessuno l'ha visto quindi è per questo che l'ho chiuso poi cioè non è che mi spaventavo diciamo che non riuscivo più ad andare avanti ci vuole un enemista qua che se li mangia tutti diciamo niente inizierò una serie su minecraft siamo a 32 secondi ok e l'ho già letto anche nell'altro vlog e scusate se non ve lo non vi ho ancora messo i video dei tutorial ma la gava di brutto e cioè proprio facevo una figura con il lag cioè tipo ero qui aspettavo 30 metri una cosa incredibile diciamo spero di cambiare cioè sul cellulare dove faccio i video di cazzate varie che avete visto anche nell'altro account ecco e siamo qua a fare il vlog con gli anelli eeeh no mica son zarro eeeh no eeeh niente spero di cambiare perchè lui se io farò un video il cellulare me lo salverà nell'altro account io non so come farlo salvare in questo ok ci proverò anche adesso tipo ok no scherzo non c'è neanche come vedete qua sopra cioè non ho niente ok niente aspettate che adesso la webcam è messa proprio e niente aspettate un attimo due secondi ok ho pensato e adesso prenderò la mia decisione eeeh grazie per il primo iscritto che tanto è da poco che sono su youtube eeeh avete visto la mia cartelletta bellissima eh no diciamo che da volte sono su youtube e fighissimo trottolare con la sedia e niente grazie al primo iscritto spero che ne arriveranno molti eeeh questo vlog è è per dirvi che che scusate per il ritardo di minecraft lo farò di sicuro i video eeeh c'ho le qui che si staccano eeeh niente ragazzi spero che che guardiate questo vlog al prossimo video e mettere un mi piace commenti se avete qualcosa a dire beh ragazzi al prossimo video eeeh Grazie a tutti.